Non basta questo, c'è un aspetto che lui sottolinea in particolare, non lo mette negli elenchi, dice a questo questo mego attenti, non ci sia falsità quando parlate tra voi in particolare all'interno della comunità cristiana in quanto cristiani, ad altri cristiani, perché voi avete abbandonato la vecchia vita e le sue azioni, come si mette via un vestito vecchio, ormai siete uomini nuovi, avete smesso di pensare e vivere in un certo modo, siete cambiati, ma perché è così importante per verificare dentro di noi che davvero siamo dei credenti, siamo nuovi, accettiamo la novità di Cristo dentro di noi, il fatto di non dire, proporre, sostenere falsità tra fratelli. Quando è che noi mentiamo di solito? Per salvare la faccia, tante volte, per non dover pagare il fio di certe stupidaggine che abbiamo fatto, soprattutto è una maschera che ci mettiamo davanti, la menzogna, apparire quello che non siamo, ma apparire quello che non siamo, a parte che il Vangelo la chiama ipocrisia e se Gesù l'ipocrisia nel Vangelo la rimprovera ai farisei, pensiamo davvero che la accetta volentieri da noi? Ma soprattutto se è vero che siamo cristiani, diventando cristiani, entrando in una comunità cristiana, in modo spirituale, non fisico, non carnale, ma spirituale, sappiamo che partecipiamo tutti della stessa famiglia, siamo in casa e tra fratelli, che senso ha? Imbrogliarsi, mentirsi. È peggio ancora che farlo con le strane, è vero o no? Anche perché se i fratelli vivono insieme e uno cerca di raccontarla agli altri, prima o dopo è il fa palo, è difficile riuscire a conservare l'immagine che si vuole proporre come la tua realtà vera, perché? Perché se le mie ancora domani è passata domani, ha una parola o un gesto che fa capire che non sei quel che ci terresti ad apparire, è perdere tempo come minimo e è complicare la vita della famiglia, quando in famiglia uno sa, capisce che non può fidarsi degli altri, ci sta volentieri in quella famiglia lì? Ecco perché lo mette a parte, dice questo è un aspetto che più di altri merita di essere sottolineato, rientra tra quelle cose sulle quali si è anche amati a mettere una bella croce e se è burlundeter, cercare di riconoscere se occorre e comunque cambiare, riconoscere che è sbagliato dentro di noi, riconoscere davanti agli altri se occorre, se si è messi con le spalle al muro, con un minimo e cercare di cambiare, non appiattirci, non fermarci lì, perché noi accettando lui siamo diventati uomini nuovi. D'altra parte provate a pensarci come hanno fatto i cristiani, i primi cristiani, a cambiare il cuore dell'impero romano in tre secoli, senza cambiare le leggi, senza cambiare le abitudini degli altri, ma semplicemente vivendo e testimoniando questo qualcosa di nuovo che avevano dentro. Se questo qualcosa di nuovo che avevano dentro fosse stata solo una bella chiacchiera che c'era la parola, ma la ghiera mia e nei fatti, avrebbero cambiato l'impero romano? Avrebbero convinto milioni di persone che valeva la pena diventare come loro? Che non è concreto, cerchiamo di essere uomini e donne nuovi, vivere dentro con gioia, questo è qualcosa che abbiamo ricevuto, per cui diventano altre le cose che ci interessano, diventano altre.